Secondo me comunque l'hanno inventato i cinesi, il laboratorio. Questi dicono di stare dentro casa, io sto dentro casa con due zombie, eccoli qua, uno e due, due zombie. Ditemelo se siamo già morti, eh. Porca di quella troia, fra, non si va a scuola, c'è la fine del mondo, zio. Viva il coronavirus, fra. Il corona che? Al legame covalente. Raga, mi sono rotto il cazzo, rimaneteci voi con formagella. Silvetti fuori. Fuori da che, prof? Da camera mia. Sotto casa c'era tipo un vigile, mi ha chiesto la tua certificazione. Non sai quanti sono? 560 euro! Piero! Ciao. È tutto il giorno che ti cerco, t'ho chiamato, t'ho mille volte, mi è sparito così! Allora, poi non mi venite a parlare di sensibilità, perché questo ragazzo ha bullizzato un disabile. Tuo figlio è un bullo, ne parla tutta Italia, su tutti i telegiornali, tutti i social! Aspetta il cuore! Ho il covid. L'ho preso. La settimana per sempre sia scessa la sera. Sai che differenza c'è tra te il coronavirus? Tu colpisci anche chi ha la mascherina. Tu ti giochi danni, lo sai questo, vero? Questa è da sospensione a oltranza. Scusate, se continuiamo a insegnare l'esclusione, non avrà mai modo di imparare, lo capite? Ora mi starà sul cazzo la felicità, forse è questo. Io con te il tempo lo impiego. Ma ti sei mai innamorato? Silvetti innamorato! Silvetti innamorato! Io sto bene. Perché forse mi piace uno? Guarda me, è tipo l'opposto. Ottia, la vita è sempre così ferocemente meravigliosa. Sì, il covid è tipo un bullo. Basta un po' d'amore e se ne va. Guarda che primavera meravigliosa che c'è. Quando respiri, facci caso.